Pornhub arriva alla svolta poco prima di Natale, video caricati solo da utenti verificati. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e ad oggi parliamo, visto che è venerdì, di un argomento molto importante e interessante. Parliamo di Pornhub, mettetevi comodi, ma non troppo comodi, perché si parla di un argomento veramente, veramente tosto. Questo parte, diciamo, da tutto, da quel report, da quella grande indagine del New York Times di qualche giorno fa, che parlava di contenuti caricati su Pornhub che contenevano immagini di abusi e qui chiaramente è scattata un'inchiesta. Mastercard e Visa hanno fatto un'ulteriore indagine, visto che sono chiaramente dei giganti dei pagamenti e su Pornhub chiaramente fanno una grossa fortuna. Pensate che Pornhub ha 43 miliardi di utenti nell'ultimo anno. Insomma, cosa è successo? È successo che chiaramente le pressioni di questi due giganti hanno portato ai vertici di Pornhub a un cambio epocale, pazzesco. Pensate se accadesse su YouTube, ovvero il caricamento dei contenuti sarà possibile solo ad utenti verificati. Questo è possibile per Pornhub che probabilmente perderà tantissimi contributori amatoriali, chiaramente, perché non potranno caricare più i loro contenuti senza essere quindi verificati e quindi perderanno utenti che caricheranno contributori, ma dall'altra parte probabilmente si posizionano in una situazione, in un momento, in un paradigma veramente, veramente interessante, veramente da un certo punto di vista che è dalla strada. Di solito quando si sottovaluta le azioni che di norma avvengono 3-4 anni prima rispetto al mondo del business tradizionale, ecco, quando si sottovaluta le azioni di Pornhub è sempre un po' complicato spiegare alle persone comuni perché per noi imprenditori e professionisti è necessario capire che cosa accade lì, perché lì accade sempre il cambiamento, perché lì arrivano sempre le innovazioni che poi noi, fragette, subiamo e vediamo per quanto riguarda la comunicazione tradizionale. Pensate all'algoritmo di compressione di YouTube o dello stesso Netflix, copiato, mutuato da quello dei siti per adulti e poi ancora il business model, ovvero un portale che distribuisce contenuti gratuiti che però, grazie a un piccolo numero di utenti che acquistano le parti pro, riesce a stare in piedi e riesce a guadagnare dei bei quattrini. Insomma, attenzione a sottovalutare questi incambiamenti e di per sé anche tutto il mondo del hot online. Tutti d'accordo con Pornhub? No, perché l'aggiornamento anche porta a un'interruzione del servizio di PayPal che ha deciso di bloccare la collaborazione, perché? Perché sui suoi termini di servizio vieta ogni passaggio, ogni transazione con siti che hanno materiali a servizio o contenuto erotico. Insomma, un grande movimento, un grande cambiamento da prendere seriamente e da studiare anche, perché chiaramente tutto si muove anche in questo mondo, bisogna avere un po' di intelligenza per capire che da lì noi dobbiamo imparare. E questa settimana abbiamo concluso il podcast del caffettino. Fate i bravi, mangiate verdure e quindi anche fate l'amore, ma se volete chiaramente continuare, fare l'amore sicuramente, ma a seguirmi, mi raccomando, ci vediamo lunedì alle 7.30 sul podcast e anche se volete sul canale Telegram. Mario Moroni Canale, ci sentiamo lunedì, fate i bravi! Grazie.